Marco Forlan e Volgan Abel, nome d'arte Ludwig, hanno mietuto vittime tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 nel nord-est Italia, in Germania e nei Paesi Bassi. Residenti a Verona e figli dell'alta vorghesia della città, avevano in comune idee politiche di estrema destra e il desiderio di ripulire la società da ciò che consideravano deviato. Barboni, omosessuali, prostitute, drogati e via dicendo. Rivendicavano i loro omicidi con dei volantini e le uccisioni arrivarono probabilmente a 28 con numerosi feriti. Molte vittime vennero uccise con armi bianche, altre arse vive in incendi da loro appiccati. Vennero arrestati il 4 marzo del 1984 durante il tentativo, fallito, di appiccare un incendio alla discoteca Melamara di Castiglione. Il processo a loro carico si concluse con il riconoscimento della semi-infermità mentale e 30 anni di carcere per entrambi. Oggi sono dunque uomini liberi. Wolfgang Abel è in coma dal 2021 a causa di una caduta. Grazie. Grazie.